ah 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 ti amo ah voglio un panino ehi avviva siamo imbecilli buongiorno adventure time go chiama i tuoi nemici ci uccideremo come non mai oggi il cane fill avventuriero ci ammazzeremo adventure time go ah che bella giornata oggi spero che non mi rubino ciao fin ascolta perché c'hai le braccia blu perché franco e francesco per fare i disegni di questa serie del cacchio ci hanno messo due soldi due spiccioli e 500 mila euro e 500 mila euro in meno quindi ci hanno messo zero soldi per fare l'animazione e l'hanno fatto sul libro a fumetti sto show del cacchio e comunque i disegnatori di adventure time normale non sapevano disegnare niente affermazione più che ovvia bene che bello stare così con il sorriso non succede niente ah ah ti rubo perché sono il cattivo fin c'è mio zio ryan e anche nonno paolo donna elisa e tu te ne vai via fin ma che cacchio fa imbecille come dico nella sigla di questo brutto e stupido cartone io voglio un panino perché mi sta venendo fame a uccidere il cacchio fin aspetta mi è venuta un'idea per prendere per il sederino questo ragazzo brutto ti fermo subito hai ragione fake jake sono idiota non mi chiameresti mai jake ma comunque infatti hai ragione fake sono davvero tanto 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 idiota davvero tanto idiota bene fin allora vattene a quel paese sei un idiota insensibile ma io me ne vado ciao come osa fin a chiamarmi fake come osa fin a chiamare i tuoi amici andremo verso terre lontane con cecchi canetti l'avventuriero ci divertiremo it's adventure time come osa fin a chiamare i tuoi amici e Sver minuti